Un immigrato, e qua mi sento, nel senso non voglio andare oltre, però un immigrato che si chiamava Lou Botte, e fece un certo successo, soprattutto questo morano, chiamato Quattro Cucci, che in America dice la casa di rap, what is, what is this, what is, what is, what four Cucci, what is, non capivano. Perfetto, noi abbiamo un po' di versare Rock and Roll che fa così. I, 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 ho ma Allora, 4 sui! 3 sui! 1 sui! 2 sui! 3 sui! 3 sui! 3 sui! 3 sui! 4 sui! 5 sui! 5 sui! ��! 5 sui! 5 sui! 6 sui! 6 sui! Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì.